Il panel su come l'intelligenza artificiale sta cambiando gli studi professionali. Io porto la prospettiva del mondo della ricerca e di coloro che lavorano allo sviluppo di soluzioni automatiche di intelligenza artificiale per migliorare quella che è la prestazione dei servizi e l'ottimizzazione dei prodotti offerti dagli studi professionali. Questo ha vantaggio non solo delle piccole studi professionali ma anche ad esempio delle pubbliche amministrazioni che vengono agevolate e lo saranno sempre di più in futuro nell'utilizzo di questi strumenti per ottimizzare quelle che sono le performance e tutti i processi.